Ciao ragazzi, oggi sono qui nel mio fortino e ho pensato di vendicarvi per l'altro scherzo che ti dovevo aver fatto delle uova di Pasqua. Intanto vi lascio il link in descrizione. Quindi ho pensato di prendere il suo ciabatte, che l'ho già qui, e mettere la nutella sopra. Così quando scenderà dal letto, infilerà l'infranito e poi si sporcherà tutto, l'infranito, i piedi, e vediamo la sua nazione. Prepariamo lo scalzi insieme. Grazie a tutti. Ragazzi le ciabatte sono prontate, Silvio Giovedentina che è stato spesso. E adesso vado a prendere il ciabatte, vado a prendere il ciabatte vicino al suo letto. Grazie. 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 maggio aprile maggio spettato appunto no è però io non ho fatto così e che per te che cos'è per te che cos'è tivo spero sia nutella dai cos'è nuovo puoi mangiarti la nutella dalle ciabatte metti le ciabatte quindi te ne dovrò fare anche uno a te e quello di altri siamo pari siamo pari che cattivo però questa è cattiveria però eh e poi come faccio ad andare al bagno che mi ho chiuso tutto il movimento io non puoi andare al bagno come non puoi andare al bagno adesso mi devi lavare i piedi tu prendi una macinetta e me li lavi qua no si no e come faccio si lavato solo guarda che mi mi arrabbio non posso perché sbarco tutto il pavimento e vabbè io mi sono sporcata e no dai se perché sono andati nella terza guerra mondiale oh poverino dai dai veramente ok ti lascio io vado a fare ah no io l'ho già fatta con la serie no dai veramente come faccio io vado a giocare a forza no 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 vieni qua vieni qua no ahhh mi sto calmo a terra madonna santo dove ci vuol facciamo no ma chiedo tutto ti vado a coprire delle cose non posso vedere i terminelli ma tu non avevi un'altra di scolta no ciabatte no no se c'era ma se la sotto come faccio te la vado a prendere io te la vado a prendere io ma come hai fatto a pensare a una cosa del genere allora perché questo non ve l'ho ancora detto essendo che lei mi ha fatto un scalzo delle ore di pasqua beh la nutella è come un po' come il cioccolato allora ho fatto quasi un scalzo come le ore di pasqua sì ma quello non ti toccava a te e vabbè ma io sono scalzo è stata come la fisica proprio anche io eh sono scalzo ha straccato un pavimento incredibile è stocchiato qua dai mamma da tira no no non ti dico che è colpa tua abbiamo le prove abbiamo le prove guarda che non sto ridendo eh guarda mi potessi sporcare mi potessi sporcare mi potessi sporcare mi metti le dita qua dai niente che devo fare dai che devo fare niente mi devo mettere no 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 basta giusto questo dai dai i piedi sono più che no ma come va io vado a giocare a fortnite c'è una sensazione stranissima no metti metti ah che schifo ma non magari io vado perché no è bruttissimo allora dai ti ho fatto la doccia ieri sera ci accompagno avete le prove che mi ha picchiato mi vanno ma che schifo no no ti porto io oh ragazzi io vado mi saluto ciao oh pure io io vado a giocare a fortnite ah te la farò pagare non pensare di farla fare però se io ti anticipo però se io ti anticipo con un video che ci hanno consigliato eh una 24 ore che più o meno uno scalzo poi 24 ore eh no adesso tocca a me oh perché fai tutto tu eh scusa io vado perché mi sento i piedi tutti i soldi facciatevi faccio lo stesso questa settimana cosa stai dicendo? no che non ho niente io vado io vado a mangiare no che non ho niente no che non ho niente Grazie a tutti